buona pasqua av internet mi riconoscete sono james dal team di casino italiani oggi andremo a vedere la nostra classifica di slot pasquali perché non è mai pasqua senza slot di pasqua ma prima di entrare nel bello non fare il timido iscriviti al nostro canale dai faccio sto favorino numero 3 vuoi fare un viaggio a pasqua senza dover pagare per un biglietto aereo allora preparati a essere trasportato direttamente sull'isola più festosa del pacifico easter islands 2 si hai capito bene questa slot yggdrasil è come un passaporto per le vacanze più cool che tu abbia mai visto dove puoi incontrare i simpatici mohai ballare sulla spiaggia e provare a far scattare due incredibili funzioni di respin con swap dei simboli e blocchi giganti i rulli espandibili sono la diretta conseguenza dei respin con i wild colossali la griglia può crescere fino a dimensioni 8 per 6 facendo salire a 55 il numero delle pay lines bello andando proprio al sodo non l'uovo il sodo l'rtp è del 96 per cento mentre la vincita massima tocca quota 750 mila euro quasi quasi metto ciabatte costume mi trasferisco subito numero 2 in seconda posizione bonus bunnies di no le metzetti in questa allegra fattoria troverai tanti coniglietti carini e teneri verdura in quantità con tante carote succolente da far venire l'acquolina in bocca persino a bugs bunny che succede amico ma non lasciarti ingannare della loro dolcezza questi coniglietti sono pronti a sbucare fuori dal cilindro trasformandosi in carote wild che si espandono sui rulli oppure attivando il bonus dei carrot link spins qui potrai sbloccare ancora più vincite grazie a simboli speciali e moltiplicatori esagerati che ti faranno saltare dalla gioia come un coniglio felice rtp al 96,14 per cento e se vai di fretta c'è pure l'opzione bonus buy che ti permette di attivare il bonus senza attendere che i tre conigli si facciano vivi tutti in una volta no limit city non delude mai a proposito ricordati di dare un'occhiata al nostro sito casinoitaliani.it dove puoi leggere le recensioni complete di queste slot e provarle anche nelle versioni demo inoltre qui sotto mi infiliamo link alla nostra pagina di promozioni di pasqua una vasta selezione di offerte ad hoc attive proprio in questo periodo come vedi anche noi siamo pieni di sorprese numero 1 al primo posto ovviamente l'unico incontrastato re di tutti i pollai rocco gallo sicuro di sé e all'apparenza tranquillo in realtà rocco nasconde molti più doti di quello che ti sembra ma parliamo ancora di rocco gallo in questa slot play and go innanzitutto funziona sia come simbolo più prezioso dell'intera fattoria sia come simbolo while seguito da quattro galline ipnotizzate e dai soliti ortaggi ma quello che ci interessa davvero sono le uova d'oro questi simboli scatter prima attivano il gioco bonus e poi si presentano con vincite immediate e moltiplicatori fino a 10 per che si aggiungono al nostro cestino l'rtp qui sale al 96.3 per cento mentre l'unico inconveniente sarà dato dalla volpe che vuole interrompere la nostra raccolta di vincite uova per fortuna ci sarà sempre rocco pronto a lanciarsi nella zuffa al posto nostro beh facci sapere se ti sei divertito con le nostre slot di pasqua lasciando un commentino qua in basso eppure schiaccia quel mi piace visto che ci sei e controlla di esserti iscritto al nostro canale per non perditi le prossime novità un abbraccio da james ti auguriamo buona pasqua tanta fortuna e come sempre gioca in modo responsabile